Ciao a tutti, sono Daniele Dottarelli e questo è il mio punto vendita. Sono infatti lo store manager del Toy Center e Bimbo Store di Roma Aurelia. Che ne dite di andare sulle montagne russe o di fare un giro in moto solo con l'aiuto di uno smartphone? Com'è possibile? Seguitemi! Vi presento il visore di realtà virtuale Omido con il quale potete guardare contenuti a 360 gradi, immergervi in ambienti con profondità 3D e dare vita ad emozionanti avventure con tutta la famiglia. Usare il visore Omido è semplicissimo, è sufficiente infatti scaricare una delle numerose app presenti nell'Omido Center, posizionare lo smartphone nell'apposito alloggiamento ed indossarlo. Omido Center è il portale delle app per realtà virtuale con centinaia di giochi, applicazioni, foto 3D, video a 360 gradi e aggiornamenti settimanali. Il visore di realtà virtuale Omido ha tre diverse regolazioni anche per i portatori di occhiali. Le sue superfici di contatto sono infatti intercambiabili e comprende un astuccio, una salvietta di pulizia e una facetta aggiuntiva. È inoltre compatibile con Android e iPhone. Perché il visore di realtà virtuale Omido aiuta grandi e piccini nell'apprendimento ad usare le app, a vedere film in 3D e a visitare virtualmente edifici, piazze, musei e concerti ad un costo contenuto. E adesso che siamo pronti per una nuova avventura, possiamo salutare. È stato un piacere presentarvi il lettore di realtà virtuale Omido. Un caro abbraccio a tutti e naturalmente Buon Natale! Buon Natale! E adesso per presentare il prossimo giocattolo nomino Sandro Bertolini, store manager del Toy Center di Mantova. In bocca al lupo Sandro! In bocca al lupo Sandro!